C'è fermento nelle campagne fanesi e nell'entroterra di Pesaro e Urbino. Camion, trattori e diversi agricoltori sono all'opera in queste settimane per la raccolta dell'uva lungo i vigneti. La vendemmia è partita in anticipo quest'anno grazie alle diverse condizioni climatiche che hanno interessato le nostre zone. Passeggiando nelle colline tra Fano e Cartoceto non si può non notare il grande lavoro in atto degli operatori vitivinicoli. Tommaso Di Sante, come sta andando la raccolta dell'uva e qual è la situazione? Allora, siamo quasi agli sgoccioli perché la stagione, vista le condizioni climatiche particolarmente diverse, è iniziata molto presto. Prima di Ferragosto, addirittura con le basi spumanti, per arrivare fino adesso sui prodotti superiori riserva. Un'annata positiva, a dispetto dell'anno scorso, che è stata un'annata abbastanza drammatica. Nonostante la siccità, a macchia di lopardo le condizioni sono state un po' diverse, però qualitativamente abbiamo un'ottima produzione. La quantità è sulla media, ritorniamo su una produzione standard. E invece come sono le uve? Le uve sono sane, è chiaro che sulle zone dove la pioggia è stata poca c'è stato un calo di produzione, però qualitativamente abbiamo già in fase di fermentazione in cantina degli ottimi profumi. Quindi dalle uve belle sicuramente otterremo un'annata decisamente positiva per i vini 2024. Il mondo dell'agricoltura, si sa, è in continua evoluzione. Come per tutte le lavorazioni, anche la raccolta dell'uva ha visto l'introduzione da diversi anni di macchine all'avanguardia, nonostante c'è chi, ancora oggi, preferisce raccogliere a mano. Ovviamente la raccolta manuale ti dà meno liquido e quindi una qualità decisamente maggiore perché arriva al grappolo sanissimo. La raccolta macchina riduce i costi e i tempi di raccolta, quindi qualitativamente riducendo i tempi di raccolta, la mattina molto presto, in 3-4 ore si riescono a portare in cantina mosti ovviamente freddi, uve ovviamente fresche. E' chiaro che per la macchina non si fanno prodotti di eccellenza, quindi ancora la mano dell'uomo è fondamentale, quindi si raccoglie per la selezione, per il riserva, per ovviamente tutte le bottiglie. La raccolta avviene in gran parte delle aziende marchigiane, ma nazionali, italiane, si raccoglie a mano. Legate alla tradizione, con uno sguardo all'innovazione tecnologica, per ridurre ovviamente i tempi e i metodi di certe lavorazioni. Il funzionamento di queste macchine, trainate e ossemoventi, è semplice. Attraverso lo scuotitore interno, gli acini finiscono in un condotto, mentre le foglie vengono eliminate esternamente. Successivamente, l'uva arriva alle casse della vendemmiatrice, che una volta piena, viene scaricata in altri cassoni in acciaio, pronta per il trasporto in cantina. In cantina vengono pressature soffici, con temperature controllate, iniziano le pressature, poi le fermentazioni. Anche le vendemmiatrici hanno cannoncini di CO2 per raffreddare le uve, così avviene con gas inerte anche in cantina, con azoto per evitare il contatto con l'ossigeno da parte dei mostri, dei liquidi, che perderebbero l'aromaticità del vino finale. Quindi si lavora con molta tecnologia, al dispetto di quello che facevano i nonni, solo grazie alla tradizione e all'esperienza.